E' l'anarchico Alfredo Cospito, articolo 41b, cari amici, Forza Italia prende le distanze da fratelli d'Italia. Beh sì, Forza Italia dimostra di essere un partito liberale, sì sì sì, Silvio Berlusconi è sempre stato un liberale, anche se è ricco sfondato, però c'è una mentalità aperta, che sia chiaro. E' anche se è ricco sfondato, c'ha la mentalità aperta, perché circa i ricchi sfondati c'è Max Weber che scrisse un'opera grossa così, intitolata L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, capito? Sì sì, Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, dove spiega perché si diventa ricchi. Va bene, qua mi fermo per non andare troppo lontano, perché devo trattare il caso. Era scoppiata una bagarre in Parlamento, ieri o l'altro ieri, una bagarre, perché il giovane parlamentare dei fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, aveva attaccato Deborah Serracchiani ed altri parlamentari, dicendo che magari forse è il PD, forse Deborah Serracchiani sono vicini ai mafiosi, per il semplice motivo che in Parlamento si stava dibattendo del caso di Alfredo Cospito, Alfredo Cospito, l'anarchico in carcere secondo le regole dall'articolo 41 bis, e questo anarchico Alfredo Cospito che sta in carcere secondo le misure previste dalla norma dell'articolo 41 bis mi pare da 100 giorni, sta facendo lo sciopero della fame, è calato 40 chili, è vicino alla morte, è vicino alla morte e allora c'era il dibattito parlamentare, no? E pare che Deborah Serracchiani, la parlamentare del PD Deborah Serracchiani, avesse spezzato una lancia a favore di Alfredo Cospito, dicendo che insomma dai, togliamo Alfredo Cospito dall'articolo 41 bis, mettiamolo in un carcere normale, e allora il giovane, il giovane parlamentare di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, si era tanto tanto arrabbiato, e aveva detto ma che fa il caso voi che so voi dal PD, magari volete togliere l'articolo 41 bis, così i mafiosi che stanno all'articolo 41 bis si fregano le mani dalla contentezza, e Deborah Serracchiani non ci sta, ha detto che magari farà ricorso la magistra albura, perché a Deborah Serracchiani non le piace di venire insultata, diciamo così. Allora, ah guardate che io ho la notizia che sto qua commentando, l'ho letta sul grande web journal, home page, e ve la metto nel riassunto del video, ve la metto con il link, così voi la potete leggere alla sua interessa. La sostanza della questione è che Fratelli d'Italia, no no, la sostanza della questione è che Forza Italia, che sta al governo assieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia si è dissociata da ciò che ha affermato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Pare che Fratelli d'Italia, pare, 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 mi pare che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e capo del governo, pare, pare che Giorgia Meloni non si sia dissociata da ciò che ha affermato Giovanni Donzelli contro il PD, pare. E invece Forza Italia, nella persona di Giorgio Mulè, Giorgio Mulè è un parlamentare di Forza Italia, cioè di Silvio Berlusconi, no no, si è dissociato e ha detto, ha detto che il parlamentare Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia poteva fare a meno di coinvolgere il PD nella questione. Va bene, va bene cari amici, beh sentite io sto su YouTube dall'anno 2007, dall'anno 2007 pensate voi da quanto tempo sto su YouTube, perché su Teddy Motion, su Twitter, su Instagram, su Facebook, dal 2007, quanti video che ho dedicato a Silvio Berlusconi. Beh, io non esito a dire che non ho mai detto niente contro Silvio Berlusconi, perché sono stato professore di filosofia e storia nei dicei classici e scientifici, poi sono stato professore, no, preside di ruolo nei dicei classici e scientifici, ho scritto tanti libri, ma conosco molto bene la grande opera del sociologo tedesco Max Weber, con la W iniziale, Max Weber, intitolata l'opera L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, dove Max Weber spiega perché si diventa ricchi. Io non ho mai, chi vuole diventare ricco diventi ricco, ricco, mica è proibito dalle leggi diventare ricco, basta diventare ricco rispettando le leggi e nell'opera di Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Max Weber spiega che si può diventare ricchi rispettando le leggi. Va bene cari amici, va bene cari amici, per me l'importante è che Forza Italia, sulla questione dell'anarchico Alfredo Cospito, si sia dissociata dalle parole del parlamentare Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Va bene cari amici, non so se mi sono spiegato cari amici, Casomai non mi fossi spiegato voi andate in libreria, in una qualsiasi libreria italiana, comprate questa mia opera, questo romanzo storico, La Cometa dell'imperatore e leggendolo capirete tutto, capirete tutto cari amici, per cui ad Alfredo Cospito, a Giorgio Mulè di Forza Italia, a Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e a tutti voi che mi state auscultando, tanti cari saluti da La Cometa dell'imperatore.